Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi video spacchettamento del planner kit di marzo di Planners Anonymous Il kit è a tema appunto fiori di ciliegio e si chiama Blossom Iniziamo subito con il cartellino appunto dove ci sono i ringraziamenti E una piccola descrizione del kit E questo è appunto il tema, stupendo, guardate la girl è bellissima con questo abito veramente bello E niente, come tutti gli altri questo può essere utilizzato plastificato come segna pagina, come segnalibro Insomma quello che vogliamo Allora iniziamo subito a vedere appunto le carte che fanno parte di questo kit Carte formato A4 E cartoncino acquarellato Allora questo è il primo foglio Che è meraviglioso Provate a immaginare un inserto, un divisorio Appunto un'agenda o un Midori a tema Giappone Utilizzando questo kit, veramente bellissimo Quindi questo è il primo foglio ed è il fronte Mentre il retro appunto del foglio è questo Devo dire anche questo stupendo Questo legno con i nodi appunto del legno su questi colori che vanno dal rosino all'azzurrino Davvero davvero stupendo Poi la seconda carta è questa Con i fiori di ciliegio Qui ci sono le tazzine viste dall'alto con dentro i fiori di ciliegio E questi penso che siano tipo biscotti o macaron Appunto sembrerebbe una tazza di tè Sempre con i fiori di ciliegio E il retro di questa carta è questo Che è a dir poco stupendo Con questo uccellino E queste Sembrano quasi le lanterne appunto giapponesi Oppure i festoni Comunque diciamo che questo tema Fiori di ciliegio Richiamo un po' anche il Giappone Infine l'ultima carta Che anche questa è meravigliosa Da una parte appunto è questo Tartan Diciamo sui toni del rosa Tartan o buffalo Adesso non mi ricordo bene la differenza Stupendo E il retro appunto di questa È questo bellissimo cielo Con i vari rametti Con i fiori di ciliegio E questi bellissimi uccellini Le carte devo dire che sono Meravigliose Le carte speciali Abbiamo il vellum Che è anche questo Una cosa stupenda Ecco lo tengo un attimino sollevato Così potete vederlo Cioè guardate che bello Anche questo come dashboard È stupendo Con questi fiori di ciliegio Veramente 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 Bello L'acetato invece È un po' particolare Perché Ecco non si riesce a vedere Praticamente È uguale Alla carta A questa carta Praticamente ci sono i contorni Di tutto questo Di tutte le immagini appunto Di questa carta Però Sono sul rosino Infatti si vedono Molto poco Anzi adesso Provo a prendere Vediamo se No Non si riesce proprio A farvelo vedere Neanche sul bianco Perché È davvero Un rosa Molto Molto Leggero Proviamo a vedere Su questo Ecco forse qua Ok Forse su questo Si riesce a vedere Parte il riflesso Della luce Però vedete Proprio un rosino Molto Molto Leggero Però è stupendo Bene Dopo le carte Io passerei Agli Washi Allora Gli washi Anche questi Sono una cosa Davvero Stupenda Abbiamo L'uashi Quello Spesso Quindi Due centimetri E mezzo Che appunto Ha tutti I fiori Tutti gli alberi Di ciliegio E qua ci sono Anche delle foglioline Tipo in foil Rosa Poi avvicino La telecamera Così vedete meglio Tutti e tre Gli washi Poi quello Standard Quindi da Un centimetro E mezzo È questo Stupendo Con l'uccellino E fiori di ciliegio Mentre quello Da mezzo Centimetro È astratto Ed è su questi Colori Azzurrini Con i pallini Che sembrano Tipo In foil Rosa Ora avvicino Il tutto Eccoli qua Veramente Veramente Stupendi Passiamo ora Alla penna La penna Questo mese È rosa Però non ha Le parti Argentate Ma è tutta Rosa Quindi anche qui Dove c'è la scritta La scritta Planners Anonymous È rosa E gli svaroschini Sono di questi Colori Azzurrino Fucsia Rosa Credo ci sia Anche il Il bianco No forse il verdino Però veramente Veramente Bellissima Poi abbiamo Le card Le card Che sono Sempre Solo fronte Eccole qua La mia preferita È questa Con la macchina Da scrivere E questa Con appunto La penna Con gli svaroschi Bellissime Passiamo poi A una novità Di questo kit E cioè Un charm Cartoncino Che si tiene sempre Hanno fatto Questo fiore In feltro È un fiore Di ciliegio E dietro Praticamente Ha questo cerchio Con il velcro Perché Praticamente Può essere Attaccata In questo modo Sull'elastico Del travel Vi faccio vedere Prendo il travel Quello Che avevo Questato appunto Di planners Anonymous In questo modo Si piega Il charm È attaccato Al nostro Travel Direi che Su questo qua Blossom Ci sta Sul Sul TN di In Bloom Ci sta Benissimo Quindi mi sa Che potrei Utilizzarlo Qua Questo kit Devo dire Che potrebbe Stare benissimo Insieme al kit In Bloom Appunto Nel travel Blossom E scusate Nel travel In Bloom Passiamo Passiamo Poi agli stickers Allora Gli stickers Abbiamo Questo foglietto Molto carino Guardate la macchina Da scrivere Stupenda Poi c'è anche qua Lo champagne Rosa Poi abbiamo Questo Anche qui Carinissimo Con i fiori La finestra Le bustine Del tè Poi abbiamo Questi funzionali Quindi con i giorni Della settimana Il TN Ecco quindi Questo qua Probabilmente sarà Il TN Che uscirà Perché spesso Fanno uscire I TN E infine L'ultimo Quello con Le varie Mag Macchine fotografiche Vari TN Le varie scrittine La scritta Appunto She's here Per Appunto Attaccare Sull'agenda Il giorno In cui è arrivato E poi abbiamo Shipping day Del prossimo Kit Che sarà Whale song Quindi a tema Sirene Se non sbaglio Whale E balè Dovrebbe essere Balena Il canto Della balena Dovrebbe essere In italiano Spero di non Essermi sbagliata Abbiamo I die cut Ormai Hanno Preso Fare I die cut Abbastanza Grandi Dove appunto Abbiamo La cartolina Che appunto Contiene I die cut Che in questo caso È il bellissimo Albero Di ciliegio E poi abbiamo Appunto La girl Abbiamo Ormai Abbiamo sempre Dentro Anche La taschina Ed è veramente Stupenda Guardate che bella Anche questa La mettiamo Un attimino Qui E poi abbiamo I fiori Di ciliegio Il nostro Bellissimo Uccellino La bottiglia Appunto Di Champagne Rosé Il vaso La nostra Bella macchina Da scrivere Che anche questa Mi piace tanto Poi abbiamo Le lanterne E i festoni Abbiamo anche La girl Con il kimono In stile Kawaii E poi Come tradizione Ormai abbiamo Questo die cut Che può essere Utilizzato Piegandolo Metà Quindi Rimane Fronte E retro Anche questa Direi che è una bella idea Infine Abbiamo I clear stamp Praticamente abbiamo La girl L'uccellino I fiori di ciliegio La scritta Thank you E un po' Di fiori Anzi tra l'altro Questi qua Che sono quelli Componibili Quindi Si può utilizzare La base Questi qua neri Magari di un colore Chiaro E poi questi qua Passarci sopra Con un colore Più scuro Bene Questo è il kit Blossom Di Planners Anonymous Veramente Veramente Stupendo Mi piace Tantissimo I colori Sono stupendi Lo ripeterò All'infinito Planners Anonymous Non mi delude Mai Lasciatemi Un bel pollice In su Se vi è piaciuto Il video Lasciatemi Un bel commento Io vi saluto Vi ringrazio Per avermi seguito E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao